Un motociclista molisano indagato per la morte del 48enne e investito lo scorso primo novembre sulla statale 158 a Colli al Volturno. Operai forestali del Molise senza stipendio da due mesi, Romagnolo presenta un'interrogazione al presidente della regione, Toma, chiedendo l'UMI. Piano operativo sanitario passa una mozione a Palazzo San Giorgio e si annuncia una seduta monotematica con consulta dei servizi sociosanitari e parlamentari. Anche una delegazione della Federazione Lavoratori della Conoscenza del Molise sarà presente alla manifestazione per la pace in Europa che si terrà il 5 novembre a Roma. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT. Apriamo con la cronaca. Sarebbe un molisano residente nella zona di Colli al Volturno e responsabile della morte di Paolo Marchesani, investito mentre attraversava la statale 158 lo scorso primo novembre e deceduto poche ore dopo al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso. Sul caso l'immediata apertura di un fascicolo in procura per omicidio stradale, le indagini dei carabinieri che dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza hanno individuato e sequestrato due diverse motociclette. Poi la stretta attorno all'indagato che per mezzo di un proprio perito di parte parteciperà all'accertamento irripetibile dell'autopsia disposta sulla salma della vittima. Marchesani, 48 anni, era originario e residente a Colli al Volturno. La consigliera regionale Aida Romagnolo torna a parlare dei consueti problemi degli operai forestali molisani e chiede che siano immediatamente effettuati i pagamenti dei loro salari arretrati. Aida Romagnolo. La consigliera regionale del gruppo di Fratelli d'Italia non demorde e torna sull'atavico problema che grava sui lavoratori forestali molisani che vivono da sempre la difficoltà della mancata corrisponsione degli stipendi. Un problema di fatto gravissimo perché pesa enormemente su tante persone che già vivono la precarietà del lavoro e sulle loro famiglie in un periodo sempre più difficile e complesso. In questo momento gli arretrati sono soltanto quelli di settembre ed ottobre due mesi che i forestali vedono come una sorta di normalità. Eppure è un segnale sicuramente grave perché implica il fatto che una categoria debba essere remunerata sempre e soltanto in ritardo con i tempi. Spesso, scrive Romagnolo, questi compensi rappresentano l'unica forma di sostentamento per numerose famiglie e non è più concepibile ledere la dignità di chi lavora scrupolosamente assolvendo in pieno come è giusto che sia i propri doveri. I pagamenti dovrebbero essere effettuati dall'Arsap, l'azienda regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca, ma ad oggi tutto tace. Per tale motivo, ha concluso la consigliera, ho presentato una interrogazione affinché il presidente Toma chiarisca, se possibile, il perché di tali ritardi e soprattutto solleciti l'Arsap a provvedere immediatamente al pagamento delle mensilità dovute. Tutelare il diritto di ogni paziente oncologico, il Movimento 5 Stelle a Palazzo Daimmo presenta una proposta di legge per la promozione dei servizi di assistenza psico-oncologici nella rete regionale. Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologici nella rete oncologica regionale e la proposta di legge presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle a Palazzo Daimmo, Greco, Primiani, Fontana, Manzo, Nola e De Chirico. L'iniziativa legislativa mira a tutelare il diritto di ogni paziente oncologico. Come spiegato nel documento, le strutture sanitarie regionali che erogano cure psico-oncologiche devono garantire nel rispetto della dignità e dell'autonomia della persona il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia rispettando alcuni principi. Si tratta della tutela della dignità e dell'autonomia del malato senza alcuna discriminazione della tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine, un adeguato sostegno sanitario e psicosociale della persona malata e della famiglia. In quest'ottica la Regione è chiamata a promuovere l'inserimento dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale per malati, famiglie, equip oncologiche ed operatori dei reparti di oncologia, tutto attraverso l'attivazione di un modello organizzativo nella rete oncologica regionale che prevede uno specifico approccio integrato delle differenti specialità, la presenza di un esperto in psico-oncologia in equip con altri professionisti della diagnosi, dell'accoglienza, della comunicazione e non solo. La proposta di legge passa ora all'esame della Commissione Consiliare Competente che dopo l'espressione del parere di competenza la invierà all'attenzione del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive. Il piano operativo sanitario molisano continua a tenere banco. Nel Consiglio del Comune di Campobasso passa una mozione e si guarda ad una seduta monotematica per discuterne. Approvata a Palazzo San Giorgio la mozione è presentata come primo firmatario dal consigliere del PD Giose Trevisonno relativa al piano operativo sanitario regionale. Con 22 voti a favore e 3 astenzioni, il Consiglio Comunale di Campobasso chiede al Sindaco del Capoluogo di Regione di promuovere una mobilitazione di tutti gli amministratori locali molisani affinché si chieda al Governo un'aderoga alla normativa Balduzzi e la modifica immediata del piano operativo sanitario sollecitando inoltre l'invito alla delegazione parlamentare molisana a discutere del tema in Consiglio. Sulla stessa linea il Sindaco Roberto Gravina. L'intenzione al rimarcato è quella di affrontare il tema del piano operativo sanitario regionale in una seduta monotematica del nostro Consiglio Comunale alla quale saranno invitati a partecipare i rappresentanti della consulta cittadina dei servizi sociosanitari e la delegazione parlamentare molisana per un confronto diretto e propositivo che la nostra città vuole incentivare e promuovere anche attraverso l'atto portato dal consigliere Trevisonno all'attenzione e all'approvazione dell'assise. Obesità all'ospedale Casa del Sollievo a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia sono stati eseguiti i primi tre interventi di gastroplastica endoscopica. La nuova procedura mini-invasiva consente in totale sicurezza di ridurre le dimensioni dello stomaco. Essa è stata ideata per far perdere peso ai pazienti obesi. Attualmente in Italia le persone in sovrappeso sono circa un terzo dell'intera popolazione. Il Molise è tra le regioni a più alta percentuale del Paese. Dopo la ricorrenza del 2 novembre la commemorazione dei caduti in guerra e nelle missioni internazionali si tornerà a celebrare domani 4 novembre il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. Lo si farà a Campobasso, a Disernia e in altri numerosi comuni molisani attraverso la presenza di autorità civili, militari e religiose, di rappresentanze delle associazioni d'arma. A Campobasso è previsto un corteo che dalle 9.30 partirà da Piazza Pepe per arrivare in Piazza Vittoria. Anche una delegazione della Federazione Lavoratori della Conoscenza del Molise sarà presente alla manifestazione per la pace in Europa che si terrà a Roma sabato 5 novembre. Questa guerra va fermata subito. E' questo il punto centrale di una grande manifestazione organizzata per sabato 5 novembre in Piazza San Giovanni a Roma. Una manifestazione voluta da un'ampia coalizione di associazioni, comitati, organizzazioni sindacali e tanto altro che, in nome della pace in Europa, portano in piazza tutte le esigenze di un mondo preoccupato soprattutto dello scatenarsi di una escalation nucleare. Un conflitto che già tanti danni ha prodotto e che può degenerare in pochissimo tempo alzando il livello di pericolosità per la pace e per tutti gli abitanti del pianeta. L'iniziativa vuole richiamare la responsabilità e il dovere degli stati e dei popoli per fermare la follia della guerra e tornare alla necessità di lavorare alla soluzione pacifica di questo conflitto portato follemente nel cuore del continente europeo. Il concentramento della manifestazione è fissato per le ore 12 presso Piazza della Repubblica nelle vicinanze della stazione Termini. Il corteo partirà alle ore 14, attraverserà le vie Terme di Diocleziano, Amendola, Cavour, Lesquilino, Via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore e andando verso Via Merulana giungerà Piazza San Giovanni dove si concluderà verso le 18.30 dopo gli interventi dal palco di numerosi esponenti della cultura e dell'impegno sociale. Chiunque voglia partecipare può contattare gli uffici della GGL del Molise. In considerazione dell'aumento delle richieste di passaporti da parte dei cittadini molisani residenti a Termoli e nei paesi limitrofi nella mattinata di domani 4 novembre 2022 gli sportelli preposti del commissariato sempre di Termoli saranno aperti senza necessità di prenotazione dalle ore 9 alle ore 13. L'area produttiva di Larino si apre alla zona economica speciale della Puglia per attrarre maggiori investimenti e creare più occupazione. Migliorare al più presto il tracciato stradale che collega le aziende industriali delle piane di Larino alla Statale 87. Il primo cittadino del centro frentano, Pino Puchetti, ha recentemente avuto un confronto con i tecnici dell'ANAS e dei titolari dei più importanti stabilimenti presenti nella zona produttiva ai piedi del centro abitato di Larino. Il sindaco Puchetti poi a Bari ha preso parte alla discussione per quanto riguarda lo sviluppo della zona economica speciale Adriatica-Puglia-Molise di cui fa parte anche l'area PIP delle piane di Larino a vocazione agroalimentare. Il piano in questione prevede agevolazioni statali, regionali e comunali finalizzate ad accrescere l'attrattività imprenditoriale dell'area. Inoltre nel capologo Pugliese è stata avanzata la proposta di esenzione dal pagamento di IMU e Tari per i sette anni successivi al completamento dell'investimento e del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione. Si tratta di misure utili per continuare ad attrarre investimenti nella zona industriale frentana. L'area produttiva guarda a quinti con estremo interesse alla zona economica Adriatica per crescere, espandersi e offrire ancor più opportunità lavorative alle aziende industriali al suo interno. Isolamento ed inclusione di minori fragili, l'ambito territoriale sociale di Larino potenzia le attività volte a prevenire il fenomeno. Grazie all'ambito territoriale sociale di Larino scatta una nuova operazione ad integrazione del servizio di assistenza domiciliare educativa affidato alla società cooperativa Sirio. Tra gli obiettivi il potenziamento dell'attività domiciliare di cui diversi minori fruiscono, più laboratori e coinvolgimento di famiglie con minori fragili. In particolare diversi beneficiari del servizio ADE residenti nei comuni di Larino, San Martino in Pensili e Santa Croce di Maiano parteciperanno a lavori pomeridiani aggiuntivi, un aiuto in più soprattutto di carattere ludico, un mezzo per socializzare ulteriormente che verrà fornito in collaborazione con l'Associazione Centro Musica e Cultura e la Scuola Civica di Musica SCDM di San Martino in Pensilis, con il villaggio delle arti di Larino, l'APD Real San Martino Calcio. Contro l'isolamento che smartphone e PC causano nei giovani, contro il rischio di esclusione che nei piccoli centri spesso rappresenta un rischio reale, l'iniziativa fortemente voluta dalla coordinatrice dell'ATS di Larino, Eloisa Arcano, è stata realizzata interamente dall'ambito e mira a sostenere il minore in età scolare, a garantire la sua formazione rinforzando la sua autostima. L'obiettivo è quindi quello di dare stimoli, suscitare interesse e curiosità verso ogni conoscenza per marciare spediti verso un elevato livello di autonomia. Le attività infatti offrono spazi di socializzazione e di relazione fra pari, occasioni di incontro vero e concreto che oggi più che mai sono un toccasana per tanti minori, soprattutto se con qualche difficoltà. All'Istituto Alberghiero di Agnone, la seconda edizione del premio cinone dell'Accademia Italiana della Cucina, studenti all'opera nella preparazione di piatti sul tema La Tavola del Contadino, premiati Ottorino Paione e Alessio Lemme con la zuppa di lenticchie con cotechino di agnello in abbinamento alla tintilia del Molise. A valutare le portate, una giuria composta da cuochi esperti, accademici e da autorità scolastiche. Salute, ambiente e diritti, l'educazione alimentare integrale per conoscere gli aspetti nascosti legati al mondo del cibo che finisce quotidianamente nei nostri piatti. E' questo il tema dell'incontro, il mondo nel piatto a cura di Nicoletta Radatta che si terrà domani venerdì 4 novembre al 18.15 alla Bibliomediateca Comunale di Campobasso. Ridare lustro all'antica fortezza medievale di Campobasso sono iniziati i lavori di protezione e riqualificazione del Castello Monforte e della collina circostante. Chiuso alle visite turistiche da alcuni giorni, il Castello Monforte è simbolo storico e patrimonio culturale della città di Campobasso per le opere di riqualificazione architettonica della struttura del Tardo Medioevo attese da diversi anni. Il progetto intende assicurare la conservazione del monumento, favorendone la fruizione da parte degli utenti, anche con ridotta capacità motoria o visiva. L'idea progettuale complessiva riguardante la valorizzazione del maniero posto sulla sommità della collina che domina il capoluogo, comprende azioni di natura conservativa sui manufatti architettonici ed interesse storico-artistico. Definizione della struttura difensive della corte, bonifica degli impianti, recupero delle sale cisterne e delle torri, miglioramento degli spazi esterni e sviluppo di tecnologie multimediali dedicate ai beni culturali. Tutto in sinergia tra comune e sovrintendenza archeologica e belle arti del Molise. Gli interventi in questo primo lotto vogliono proteggere le mura fortificate, torrioni, gli ambienti interni e il sacrario militare del castello dal processo di degrado del tempo. Il nuovo impianto all'occasione trasformerà lo spazio racchiuso tra la cinta muraria in un teatro naturale a cielo aperto per eventi artistici. Infine, al comune capoluogo, il Ministero dell'Interno ha riconosciuto contributi pubblici pari a 965 mila euro per il consolidamento della collina Monforte. Al Via Oggi a Campobasso il fitto programma di incontri culturali previsti all'interno del calendario di novembre in città organizzato anche per questo mese dall'assessorato alla cultura di Palazzo San Giorgio. Al Circolo Sannitico alle 18 la presentazione del libro Street Art in Italia a viaggio fra luoghi e persone di Anastasia Fontanesi e Anna Fornaciari a cura di Travel on Art. All'incontro prenderanno parte anche Barbara Manuele per il Civita Street Fest, Marianna Giordano e per l'associazione Malatesta Nino Carpenito. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Nuvolosità diffusa con possibili precipitazioni piovose oggi su Morise d'Abruzzo. Le temperature sono comprese in Morise tra i 19 gradi di Campopasso e i 16 di Isernia, in Abruzzo tra la minima di 9 gradi a Echieti e la massima di 21 gradi a Pescara, venti provenienti da sud. Quasi calmo il medio adriatico, pioggia con calo dei valori climatici domani sulle due regioni. T.L.T. in rete, vivi con noi le emozioni dei campionati di Serie D, eccellenza e promozione. Risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti. T.L.T. in rete, ogni domenica, dopo le 22 e in replica il lunedì alle 15.30. Si fa interessante il cammino del Trivento in promozione in questo avvio di campionato. La squadra del tecnico Lorenzo Viglione è determinata e difficile da affrontare per le avversarie. Trivento è stato cinico, preciso e voglioso di raggiungere i tre punti contro una squadra che, lo ripetiamo, non aveva mai perso in campionato o seconda in classifica. Possiamo ritenerla tra le migliori prestazioni della sua squadra fino a questo momento? Sicuramente al primo tempo siamo stati un po' contratti, quindi a livello di prestazione è un po' meglio il secondo tempo. Nonostante comunque ricordo una traversa e un'altra occasione importanti nel primo tempo. Ripeto, al primo tempo siamo stati un po' contratti nella fase di possesso, loro ci venivano a prendere alti, non abbiamo avuto quella fiducia nel giocare palle pulite ai nostri attaccanti, ai nostri centrocampisti, quindi quella è stata la nostra pecca. Passati in vantaggio abbiamo acquisito più fiducia, poi abbiamo preso un gol su una disattenzione, un rimpallo e sono stati bravi anche loro, lo sappiamo della loro bravura, della loro velocità, soprattutto là davanti e siamo ricalati di nuovo. Questa è stata la nostra pecca nella partita, questa altalena a livello mentale e su questo sicuramente dobbiamo migliorare. Però rimane comunque una prestazione positiva di squadra contro una signora squadra del nostro stesso livello, quindi è importante dare continuità ai risultati. Zullo Fagnani, nella ripresa sono stati i cambi azzeccati? Sì, assolutamente, sono due potenziali titolari come d'altronde tutti quanti, sapevo che potevano entrare in partita in corso per dare una spinta in più alla squadra e così è stato, quindi sono contento della loro prestazione, di chi è entrato dopo di loro e in generale di tutta la squadra. Tre punti importanti che danno ancora maggiore spinta mentale al suo organico in vista della trasferta contro la prima della classe, il Fortore? Sappiamo che è una squadra che parla dei risultati che ha fatto fino ad oggi e quindi c'è bisogno di un'altra grande prestazione, sappiamo che ce la possiamo giocare tranquillamente ma con grossa umiltà alla base. Vede un campionato livellato in alto? Assolutamente sì, si sa benissimo questo campionato com'è, si può arrivare terzi o si può arrivare decimi tranquillamente, quindi bisogna ragionare veramente partita per partita e tirare le somme a fine campionato. E' tutto pronto per le finali del campionato italiano di società di prima, seconda e terza categoria di bocce in programma in Molise da venerdì 4 a domenica 6 novembre all'impianto centrale del bocciodromo comunale di via Insorti d'Ungheria a Campobasso, un evento federale imponente e importante che la Federazione Italiana Bocce ha demandato all'organizzazione della Fibbo Molise e che porterà in regione 24 squadre, 8 per ogni categoria e 400 persone tra atleti, tecnici, dirigenti, societari e federali, staff arbitrale. Domani venerdì alle 16 al bocciodromo comunale del capoluogo la presentazione dell'evento. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni della nostra informazione. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.